Jaya Man non ci sta a subire passivamente il gossip e coloro che diffondono notizie infondate sulla sua vita privata e sentimentale. In un lungo sfogo sui social l'attore smentisce categoricamente i recenti flirt che gli sono stati attribuiti. In una storia di Instagram ha dato libero sfogo al suo pensiero dicendo che la stampa è ridicola poiché in ogni momento gli attribuisce una nuova fidanzata che non corrisponde al vero. Questo messaggio rappresenta un autentico sfogo da parte dell'attore di origini turche in risposta alle voci che lo vedevano coinvolto in una nuova storia d'amore con Giorgia Colombo, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta. Ma tutto ciò è assolutamente falso. Jaya Man si è affrettato a smentire tali dicerie attraverso i suoi social network, affrontando in modo polemico il mondo del pettegolezzo che lui conosce fin troppo bene. Inoltre ha aggiunto che quando aveva una vera relazione la stampa ha fatto di tutto per distruggerla, diffondendo teorie sulla sua falsità. Ovviamente fa riferimento alla storia d'amore con Diletta Leotta. I due infatti erano una coppia consolidata nel 2021, tanto che si parlava persino di un possibile matrimonio. Tuttavia molti hanno messo in dubbio la veridicità del loro legame. Nonostante Diletta aveva dichiarato di essere molto felice e che era vero che si sarebbero sposati. Ma poi è arrivata la separazione, probabilmente a causa di un gossip sempre più invadente e mancante di rispetto per la loro sfera privata. Questo episodio della sua vita sembra essere difficile da dimenticare per Jaya Man. Infatti ha continuato dicendo che ora, che ha fatto enormi sforzi per allontanarsi dal mondo del gossip, inventano continuamente fidanzate fasulle cercando di farle passare per reali. Oggi Diletta Leotta è felicemente legata a Loris Karius e si è appresa a diventare madre. Ha lasciato Jaya Man e il gossip alle spalle. L'attore turco invece è single e lo afferma personalmente nel suo post dove conferma di essere single e sottolinea che se avesse una relazione seria sarebbe lui stesso a comunicarlo. In conclusione, Jaya Man non è interessato ad alimentare ulteriori speculazioni sulla sua vita sentimentale. Grazie per averci seguito, commentate e fateci sapere cosa ne pensate. Prima di andare per favore lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sulle notizie di gossip. Un saluto e al prossimo video.